Musica Associazione a delinquere peculato, scuola sotto inchiesta, terremoto giudiziario che ha coinvolto un istituto di Campobasso e l'ufficio scolastico regionale. Il PM Papa ha chiesto 12 rinvio a giudizio con accuse gravissime, sparite decine di migliaia di euro. Il TR Protezione Civile monta la protesta. Lunedì mattina presidio davanti alla Prefettura di Sernia dei dipendenti dell'azienda Tessile di Vettoranello. A Campobasso prendono posizione gli oltre 200 licenziati dell'Agenzia di Protezione Civile. Polemiche anche dai sindaci del cratere. Sanità Comitato Provietri contesta il piano. I cittadini dell'area frentana temono per i servizi smantellati e parlano di gravi ripercussioni per il territorio legate all'idea del riordino. Di Sernia rapina le poste e lancia l'allarme. È accaduto questa mattina. Il malfattore esce dall'Agenzia con un magro buttino, 500 euro, e dà la notizia del colpo a un ambulante. E poi scappa. Al Cannarsa tutto esaurito per Termoli Ancona. Il big match in Serie D per riaprire il campionato. Di Sernia affronta il Giulianova, mentre il Boiano va a Civitanova a Marche. Riprendono anche i campionati regionali. Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 14 del nostro DG. Dunque in primo piano il terremoto giudiziario nel mondo della scuola a Campobasso. Il PM Papa chiede il rinvio a giudizio per 12 persone con accuse gravissime che vanno dall'Associazione a delinquere al peculato e alla truffa. Coinvolto un istituto campobassano e l'ufficio scolastico regionale. Sparite decine di migliaia di euro. In apertura Pasquale Di Bello. Quattro anni di indagini, migliaia di documenti esaminati, centinaia di ore di intercettazioni, decine di perquisizioni e 12 richieste di rinvio a giudizio per reati che vanno dall'Associazione a delinquere al peculato, dalla truffa alla concussione e al falso ideologico. Sono questi i numeri e le accuse gravissime di un'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Fabio Papa e condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Campobasso distaccati presso la procura del capoluogo. I fatti si riferiscono al periodo che va dal 2006 al 2009 e a finire nel mirino degli inquirenti una rete di insospettabili tutti appartenenti al mondo della scuola, figure che hanno rivestito in passato ruoli apicali all'interno dell'ufficio scolastico regionale, docenti e personale ATA collocati presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Campobasso, il Montini per brevità. Migliaia e migliaia di euro sottratti ai fondi per progetti scolastici e formazione professionale e finiti nelle tasche di un gruppo costituito e organizzato, questa la ricostruzione del magistrato Papa, dedito ad una serie di gravissimi illeciti finanziati all'arricchimento personale. Fondi tutti appoggiati sul conto corrente dell'Istituto Montini e dai quali con atti falsi, trucchi, artifici e raggiri venivano detratti soldi destinati a progetti e formazione, interessi bancari intascati illegalmente da dirigenti e funzionari, rimborsi non dovuti e percepiti, incarichi lautamente retribuiti e indebitamente conferiti e accettati, spese allegre per pranzi e persino per un servizio fotografico da 290 euro commissionato dall'allora direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il proprio ritratto, una fotografia da usare sul sito web, tutto pagato con fondi distratti da quella che doveva essere l'ordinaria destinazione. Un quadro desolante di intrecci, manipolazioni, rapporti vischiosi tutti interni al mondo della scuola, decine di progetti manipolati e distorti a proprio uso e consumo a partire da quello che porta il nome del filosofo, poeta, drammaturgo e politico romano, Lucio Anneo Seneca. E' proprio dal progetto Seneca che si dirama la rete di illeciti contestati dal PM Fabio Papa, da quel progetto che porta il nome dell'autore noto per le lettere a Lucillo, ma che scrisse anche il De Beneficis, un trattato sulla beneficenza, un concetto che al Montini e all'ufficio scolastico regionale i dodici indagati pare abbiano compreso alla perfezione, beneficenza ma verso se stessi e con i quattrini dei cittadini. Adesso cambiamo argomento e parliamo della ITR. Lunedì mattina a partire dalle 9.30 è previsto un nuovo presidio dei lavoratori davanti alla prefettura di Sernia. Intanto l'assessore Scarabbeo ha parlato della possibilità che anche l'attuale gestione, quella di Bianchi, possa chiedere le misure previste dalla legge Marzano, ovvero un nuovo commissariamento. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Resta alta la tensione attorno alla vertenza ITR, infatti a partire da lunedì mattina alle 9.30 è previsto un nuovo presidio dei lavoratori in agitazione davanti alla prefettura di Sernia. Dall'incontro di ieri con Fratture Scarabbeo è comunque venuto fuori che la regione non ha alcuna intenzione di fare impresa lanciandosi in una nuova avventura industriale dopo i disastri rimediati con la gamma e lo zuccherificio. Lo ha detto chiaro e tondo lo stesso Frattura, la fiduizione non poteva essere onorata perché la regione si sarebbe caricata sul groppone, anche i 90 milioni di debito dell'ITR gestita da Bianchi. C'è tutta la volontà invece di battere le strade per attivare ogni forma possibile di ammortizzatore sociale, tra cui cassa integrazione e mobilità, in modo da rendere più facile la ricollocazione del personale. Ma i lavoratori vogliono risposte immediate e non mollano la presa, da cui la decisione di presidiare la prefettura di Sernia. Ieri è venuta fuori anche un'altra novità, quella che la nuova ITR di Bianchi, per indenderci, potrebbe far ricorso anch'essa alle misure previste dalla legge Marzano sulle grandi aziende in crisi, come ha detto l'assessore Scarabeo. È un'azienda che potrebbe anche finire, mi lasci passare questo termine, in amministrazione straordinaria. Ha oltre 300 persone al libro matricola e soprattutto ha un indebitamento quattro volte superiore al capitale investito. Quindi rispetto a questo noi ci ritroveremo pure con un'eventuale ulteriore ITR in amministrazione straordinaria. E chi può fare il primo passo per questa strada, assessore? Non è il primo passo, sono i requisiti della legge Marzano, insomma sono disposizioni legislative. Siamo in attesa di sapere anche il Tribunale di Sernia che cosa farà rispetto al piano industriale che gli è stato concesso in termini di proroga, che presenterà e vedere se questo piano industriale potrà soddisfare o meno quella che è la procedura concursuale. E ora parliamo di una strana coincidenza, una strana triangolazione tra la squadra mobile di Campobasso e l'ufficio di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale del Molise. Una vicenda dai contorni oscuri che coinvolge la nostra emittente sulla quale speriamo si faccia luce al più presto. Sentiamo in proposito Giovanni Minicozzi. È con rammarico e amarezza che prendiamo atto di un inaudito attacco sferrato contro la nostra emittente da persone ancora non identificate perché i loro nomi, se esistono, sono ancora coperti dal doveroso segreto istruttorio. Ma se sui mandanti c'è ancora riservatezza, anche se potete contarci quei nomi verranno fuori perché Telemolise, se l'inchiesta verrà formalizzata, chiederà la copia dell'intero fascicolo e sulle modalità di quello che sta accadendo che è doveroso sollevare più di un interrogativo, visto che la vicenda, approdando su un quotidiano regionale, è ormai diventata di dominio pubblico. Ma di cosa parliamo? Presto detto, il capo di gabinetto del governatore Maria Olga Mogavero, ha chiesto per iscritto a tutti gli enti e le agenzie subregionali di comunicare a tambur battente, entro la data del 10 gennaio, l'eventuale esistenza di contratti in essere con Telemolise. La lettera viene motivata da un'altra comunicazione, inoltre dagli enti dalla stessa squadra mobile della questura di Campobasso e indirizzata alla regione per conoscenza. Da sottolineare che la nostra emittente non ha alcun contratto pubblicitario in essere con gli enti in questione, ma la domanda è perché una richiesta del genere si tratta di un'indagine conoscitiva della procura e perché farla passare per il capo di gabinetto del presidente della regione o è un'iniziativa autonoma della questura o meglio della squadra mobile? E poi se è un'inchiesta portata avanti con delega della procura, come mai non c'è alcun riservo procedurale, visto che la presidenza della regione parla della richiesta della questura per iscritto in una lettera inviata a una decina di uffici e finita perfino sulla stampa? E come mai non ne si acquisiscono direttamente gli atti da parte degli inquirenti e si ha bisogno di una sponda alla regione? Cos'è questa triangolazione? Troppi fatti strani, troppe coincidenze. Siamo sicuri che non c'entri nulla la conferenza stampa in cui Iorio chiedeva di far luce sulla compatibilità ambientale di un altro dirigente della questura di Campobasso? Speriamo di no, ma le anomalie ci sono, sono tante e non vorremmo che facciano parte di un disegno occulto manovrato dietro le quinte e magari sollecitato da qualche esposto anonimo. Tutti in derogativi legittimi e, lo ripetiamo, ne parliamo liberamente perché la notizia è ormai di dominio pubblico ed è anche stata riportata oggi da un quotidiano regionale. In conclusione, il sospetto è che qualcuno voglia condizionarci, tapparci la bocca, intimorirci, intimidirci, insomma, metterci il guinzaglio. Chiudiamo con tre parole. Hanno sbagliato indirizzo. Torniamo alle vertenze lavorative. In attesa del tavolo tecnico, convocato per lunedì dal prefetto di Campobasso, i precari della protezione civile annunciano battaglie anche legali e denunciano irregolarità nella gestione e nell'assunzione di nuovo personale. Sentiamo ancora Minicozzi. Il coordinamento dei precari della protezione civile ha tenuto una follata assemblea pubblica nella sala consigliare della provincia di Campobasso, alla quale hanno partecipato anche diversi sindaci e il presidente del Consiglio, Gianluca Cefaratti. Tutti hanno espresso piena solidarietà ai 210 lavoratori mandati a casa da Paolo Frattura e da Salvatore Sciocca, con l'intento di rimpiazzarli mediante un nuovo concorso. In sostanza, è stato detto, la guerra politica tra vecchi e nuovi governanti si è scaricata tutta sulla pelle dei lavoratori che da circa 10 anni hanno gestito con professionalità la lunga fase della ricostruzione post-terremoto. Non ci aspettavamo dalla giunta di centro-sinistra, votata anche da alcuni di noi, hanno aggiunto i precari, una mascelleria sociale così violenta. Tra l'altro, hanno denunciato, mentre ci mandano a casa, stanno stipulando o prolungando i contratti con persone che non hanno neanche partecipato al concorso di un anno fa. Soprattutto quello che non è andato giù è il modo con cui ci è stato comunicato, perché alla fine dell'anno noi avevamo delle indicazioni dove ci si stava discutendo, si stava cercando di affrontare il nostro problema e di dare delle soluzioni. Invece siamo arrivati il 2 gennaio in agenzia e molto semplicemente e freddamente ci hanno detto che dovevamo consegnare il Beggi e andare via, perché la nostra collaborazione non serviva più. E quindi questo è il modo. E così si stanno comportando anche con gli altri che scadranno il 15 gennaio e il 31 gennaio, senza sapere che così poi in realtà, al di là di lasciare 210 persone senza lavoro, si blocca tutta l'attività della ricostruzione. Metterete in campo a questo punto una serie di iniziative, immagino? Sicuramente sì. Noi abbiamo cominciato già oggi con l'incontro di tutti i dipendenti che sono iscritti al Comitato dei Precari della Proiezione Civile. Aspettiamo con ansia anche l'incontro che il Prefetto ha convocato lunedì a mezzogiorno. Faremo dei presidi. Chiederemo soprattutto l'incontro col Presidente della Regione, perché noi adesso quello che sappiamo lo sappiamo soltanto per vie traverse o dagli organi di stampa. Ma noi vogliamo avere un incontro diviso col Presidente della Regione e ci dica lui chiaramente quali sono le intenzioni che riguarda noi, riguarda l'Agenzia, la ricostruzione. Ma secondo Salvatore Ciocca non ci sono più i soldi? Questo in parte è vero, nel senso che in seguito a una riduzione della percentuale prevista sui fondi Cipe i soldi sono diminuiti. Ma intanto dei soldi ci sono ancora per andare avanti fino ad aprile e maggio per tutti quanti. E poi è compito della politica a livello locale ma soprattutto a livello nazionale di reperire gli altri fondi, perché non si può bloccare una ricostruzione intera di centinaia di milioni soltanto perché manca qualche milione per i tecnici e gli amministrativi che devono portare avanti la ricostruzione. State pensando anche a iniziative di tipo giudiziario? Sicuramente, se non segue nessuna attività o nessuna apertura da parte degli organi dell'Agenzia oppure della Regione, sicuramente ognuno di noi impugnerà il proprio licenziamento e il proprio fine rapporto. Quindi sicuramente poi andremo anche davanti al giudice. Intanto i sindaci del cratere denunciano gravi ritardi e problemi per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto. La Regione ci convochi entro pochi giorni per un incontro urgente, altrimenti verranno intraprese nuove azioni di protesta. Questo l'annuncio degli amministratori. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Nonostante gli annunci, il Governo regionale non ha condiviso con i sindaci alcuna strategia e decisione sul futuro della ricostruzione del post-sisma. In Molise, gli amministratori dei centri più colpiti dal terremoto hanno espresso così il loro dissenso all'operato del Presidente Paolo Frattura e del Consigliere Delegato Salvatore Ciocca. Hanno quindi lanciato una sorta di ultimatum di cinque giorni per chiedere un incontro urgente ai vertici regionali e discutere della nuova gestione degli interventi rispetto ai quali i sindaci dissentono totalmente e nettamente. La presa di posizione è arrivata all'indomani di un incontro che si è svolto nella Sala Consigliare di San Giuliano di Puglia. I sindaci si sentono esclusi da tutte le decisioni e tra i propositi disattesi da parte del nuovo Governo regionale hanno osservato c'era la modifica della legge che ha istituito l'Agenzia di Protezione Civile, secondo una proposta finalizzata a far gestire direttamente ai sindaci le attività di ricostruzione evitando le lunghe e complesse procedure burocratiche. Il Comitato ha inoltre evidenziato che gli impegni relativi alla liquidazione entro fine 2013 degli stati di avanzamento dei lavori già maturati dalle imprese sono stati clamorosamente in parte disattesi. Dal terremoto sono però passati oltre 11 anni e chi governa i piccoli centri si ritrova ancora una volta a protestare tra mille disagi e incertezze. Per queste ragioni gli amministratori hanno chiesto un incontro entro la prossima settimana al Governatore Fratture e al Consigliere Ciocca. In assenza di un riscontro hanno concluso i sindaci del cratere saranno valutate ulteriori iniziative. Per la pagina politica parliamo dei nuovi incarichi attribuiti all'interno del nuovo centrodestra per organizzare il movimento sul territorio. In Molise il sottosegretario Sabrina De Camillis e il senatore Ulisse Di Giacomo sono stati indicati come responsabili dei comitati regionali. Guideranno un gruppo dirigente costituito con criteri inclusivi nel quale saranno presenti tutti i parlamentari, il Presidente del gruppo e i consiglieri regionali, i giovani e altri esponenti di spicco del movimento. Tutti gli incarichi sia per quanto riguarda i gruppi di lavoro che per quanto riguarda il territorio sono stati conferiti dal Presidente del Comitato Promotore del nuovo centrodestra Renato Schifani, sentito il leader Angelino Alfano, così come da delega ricevuta dall'Assemblea dei Promotori. Adesso la cronaca per una rapina davvero curiosa, quella che è avvenuta stamattina alla succursale delle poste di Isermia. Il primo a darne notizia è stato infatti lo stesso rapinatore. Il colpo ha comunque fruttato poco, circa 500 euro. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Non sarà un rapinatore professionista, ma di certo è il gusto per la burla, o meglio per lo scoop giornalistico. Prima di allontanarsi dall'ufficio postale di Corso Garibaldi, infatti, ci ha tenuto a dare la notizia in anteprima agli ambulanti che si è trovato di fronte. Lei cosa ha visto? Ho visto un ragazzo uscire che diceva andatemi perché ci sta una rapina in corso. sicuramente era lui, credo, e poi è andato giù da quella parte e basta. Come era vestito, più o meno si ricorda? No, ho visto solo che c'aveva il cappello, magro e alto e basta. Non c'è che dire, una rapina insolita, nel posto e nel momento forse meno immaginabile. Poco prima delle nove di questa mattina, mentre i primi clienti cominciavano a girare tra le bancarelle del mercato di Sernia, un giovane alto e magro, vestito di scuro e con un berretto in testa, è entrato nella succursale delle poste per mettere a segno un colpo. In quel momento, agli sportelli, c'erano quattro dipendenti e tre clienti. Il rapinatore aveva in mano un coltello di piccole dimensioni, ha minacciato un paio di cassiere, poi è saltato dietro il bancone e ha preso i pochi soldi che c'erano nelle casse. Si parla di una cifra che oscilla tra i 300 e i 500 euro. Pochi istanti dopo, il giovane è uscito dall'ufficio in tutta calma, facendo perdere le proprie tracce mescolandosi tra i clienti delle bancarelle. Una dipendente delle poste, sotto shock, è stata accompagnata all'ospedale veneziale per accertamenti. Del caso se ne stanno occupando gli uomini della squadra mobile, in collaborazione con i colleghi della polizia postale. Oltre ad attivare posti di blocco sulle strade principali, gli agenti hanno concentrato le ricerche nel centro storico. Nel frattempo sono state raccolte testimonianze dentro e fuori l'ufficio. Il giovane avrebbe un accento campano. Sono state acquisite e visionate anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Con ogni probabilità, gli uomini del dirigente Alessandro Gallo hanno già in mano un fermo immagine con il volto del rapinatore. Ma almeno per ora, del giovane non c'è traccia. Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla Statale 16 all'altezza del Biveo di Campomarino. Quattro anche le auto coinvolte nel tamponamento. Sul posto 118, Misericordia e Polizia Stradale. Le condizioni dei passeggeri non sono gravi. Servizi smantellati e gravi ripercussioni sui cittadini dell'area frentana. Continua la protesta del Comitato Provietri di Larino dopo gli ultimi provvedimenti legati al piano di riordino sanitario. Carolina Mancini, da sempre in prima linea per la difesa dell'ospedale, parla di una penalizzazione enorme per il territorio. Sentiamo. L'ospedale di Larino esce devastato dai nuovi provvedimenti del piano di riordino sanitario. Carolina Mancini, da sempre in prima linea tra le fila del Comitato Provietri, si sente tradita dalle ultime decisioni e parla di una penalizzazione enorme per i cittadini che, osserva, vedranno altri servizi smantellati, problemi e disagi rispetto a un diritto alla salute che invece dovrebbe essere tutelato. La ripartizione dei posti letto e quindi delle risorse sono a vantaggio della sanità privata. Siamo ancora una volta di fronte alla ripartizione per numero di strutture e non per numero di abitanti, tant'è vero che nel Basso Molise non arriviamo neppure alla soglia necessaria a garantire i livelli essenziali di assistenza. Se l'ospedale di Larino esce martoriato dal nuovo piano, l'esponente del Comitato non nasconde delle possibili alternative per evitare di ridurre una sorta di cronicario, una struttura così grande e attrezzata. Con il Presidente si era parlato di istituire a Larino un centro di eccellenza e non certamente un cronicario come è sempre stato proposto per il nostro ospedale e come ancora attualmente si tenta di fare. Se noi diamo un'occhiata al numero di posti letto attribuiti per la lungodegenza e la riabilitazione, vediamo che vengono attribuiti 88 posti a Fondazione Giovanni Paolo II e a strutture pubbliche e mi pare 136 alle strutture private. Quindi neanche a dire che Venafro e Larino potranno essere dei centri di riabilitazione o lungodegenza, naturalmente riferimento regionale e quindi poli di eccellenza di almeno queste specialità. La Mancini evidenzia anche un altro aspetto. Nell'ospedale di Larino, che è poi fra l'altro una struttura imponente, non ci si può mettere un poliambulatorio e quattro posti letto di riabilitazione e lungodegenza perché questo non servirebbe a niente. Questo significa la chiusura dell'ospedale. Poi abbiamo precisato al presidente Frattura che noi qui nel Basso Molise rimarremmo con una sola chirurgia e abbiamo cercato di fargli capire che come è necessario che a Campobasso ne permangano quattro o cinque, con quasi lo stesso bacino di utenza. Non ci si può chiedere a noi il sacrificio di rinunciare a tutto. Ed è crisi profonda anche per l'editoria molisana. Il sindacato dei giornalisti traccia il quadro di una situazione estremamente preoccupante. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. L'editoria molisana è sempre più in crisi. Negli ultimi tre anni la situazione sul fronte occupazionale, già estremamente preoccupante, è ulteriormente peggiorata. Lo confermano le cifre fornite dall'Associazione della Stampa del Molise, che ha convocato una conferenza stampa dalla quale ha lanciato il grido d'allarme. Dal 2010 ad oggi il settore ha perso il 45% dei posti di lavoro, con 46 giornalisti licenziati. Il mercato pubblicitario è crollato, con una perdita secca del 60%. Le vendite dei quotidiani in edicola sono scese di 2.000 copie, una vera ecatombe. E il peggio, secondo il sindacato dei giornalisti, deve ancora venire se non sarà posto un argile di una crisi che rischia di travolgere tutto e tutti. In Molise, escluso a Bacino Rai, ha rilevato la sua stampa, sono 61 giornalisti irregolarmente assunti nelle testate o negli uffici stampa. Per ogni giornalista contratualizzato c'è almeno un lavoratore in nero con posizione irregolare. Già proprio così, il lavoro nero o irregolare rappresenta la vera piaga dell'informazione molisana e fortunatamente non riguarda la nostra azienda. Una situazione che, come ha sottolineato Mauro Carafa, componente del direttivo, è implosa. Troppe le testate giornalistiche, pochi, pochissimi lettori, insufficienti gli introiti pubblicitari. Ed allora, oggi più di prima, si rende assolutamente necessario l'intervento delle istituzioni, chiamate ad applicare la legge 150 sugli uffici stampa, ma non solo. La Regione è chiamata direttamente in causa dal sindacato dei giornalisti. Chiediamo che il Presidente della Regione Frattura mantenga fede all'impegno assunto. È stato detto, l'impegno in questione riguarda l'approvazione entro il prossimo mese di febbraio in Consiglio regionale della legge sull'editoria. E alla domanda se la Regione non dovesse mantenere l'impegno, la risposta del sindacato è stata lapidaria. Diventeremo controparte con tutte le conseguenze del caso. Intanto la Commissione giuridica dell'Ordine nazionale dei giornalisti all'unanimità ha espresso parere favorevole al quadro di indirizzi della legge sulla stampa dell'Ordine dei giornalisti del Molise presentata al Governatore Frattura. Cardine della legge è la tutela della professione contro il precariato e il sostegno alle nuove assunzioni. E comunque ad ogni modo evidenzia la necessità di tenere ben distinte le testate televisive da quelle della carta stampata. A Isernia, nella sede del PD parlamentare, segretario nazionale dei giovani democratici Fausto Raciti ha presentato il suo libro dal titolo L'imbroglio della democrazia. In vista del congresso regionale del Partito Democratico il segretario nazionale dei giovani democratici Fausto Raciti ha voluto incontrare i militanti molisani per delineare la posizione del movimento giovanile che chiede senza giri di parole maggiore visibilità e coinvolgimento premessa necessaria per un reale cambiamento. A Isernia il parlamentare del PD ha presentato anche il suo ultimo libro di denuncia sociale dal titolo L'imbroglio della meritocrazia. L'imbroglio della meritocrazia è l'imbroglio di una società nella quale si racconta che basta studiare per occupare in futuro una buona posizione sociale avere un buon lavoro, un buon reddito. In una società troppo disuguale non è così e la società italiana è una società troppo disuguale in cui i ricchi sono troppo ricchi e i poveri troppo poveri. È uno scritto anche di speranza perché l'idea di base è quella per cui redistribuendo il reddito verso i ceti sociali più bassi e le opportunità verso i ceti sociali più bassi non solo avremo elite migliori perché saranno di più quelli che parteciperanno alla selezione parlo delle elite politiche, delle elite industriali delle elite imprenditoriali, delle elite delle professioni e via discorrendo ma sarà anche una società all'interno della quale ci sarà una vera mobilità sociale cioè la possibilità per chi nasce in una condizione di svantaggio di migliorare la propria condizione sociale. I giovani democratici sono molto attivi anche in Parlamento dove stanno lavorando a una proposta che mira a creare occupazione e a dare maggiori diritti soprattutto ai precari. Noi stiamo discutendo in questi giorni il cosiddetto Jobs Act che significa due cose fondamentalmente è una politica di investimenti soprattutto in alcuni settori strategici per il futuro del nostro Paese e dall'altro una riforma del mercato del lavoro due aspetti che ci sembrano fondamentali da un lato l'estensione dei diritti mi riferisco soprattutto alla malattia e alla maternità anche per i lavoratori precari che oggi ne sono completamente sprovvisti dall'altro l'abbassamento delle tasse sul lavoro per i giovani assunti. Il numero degli immigrati impiegati nel settore dell'agricoltura è in costante aumento c'è dunque la necessità da parte degli imprenditori agricoli di conoscere la normativa nazionale che disciplina l'inserimento e l'inclusione della madonna opera proveniente da altri Paesi con questa finalità la CIA la Confederazione Italiana Agricoltori ha organizzato a Campobasso un incontro rivolto agli operatori del settore con particolare riferimento all'inserimento nel mondo lavorativo di mano d'opera proveniente dall'Egitto e dal Marocco ai lavori ha partecipato anche un tecnico del Ministero delle Politiche Agricole che ha illustrato le novità che riguardano l'inclusione di mano d'opera straniera nelle aziende agricole italiane strategie tecniche e spunti innovativi derivanti dalla raccolta differenziata vista anche come opportunità di creare lavoro ed economia di questo si è parlato durante l'incontro voluto dal Galla Molise e Borghi Autentici d'Italia nella sala Costituzione della provincia di Campobasso la seguita per noi Marta Martino Rifiuti zero, sarà questa la parola d'ordine che anche la Regione Molise adotterà a breve per far fronte al problema dei rifiuti e delle discariche perché il riciclaggio degli scarti ossia la possibilità di trasformare un oggetto da buttar via in qualcos'altro non è solo un vantaggio per l'ambiente ma può diventare anche un'interessante opportunità di lavoro per tanti giovani e di fare economia a vantaggio delle casse comunali e delle tasche dei cittadini questo è quello che Capannori, cittadina della Piana di Lucca arrivata all'ineguagliato primato mondiale del 90% di raccolta differenziata sta facendo ormai da tempo grazie all'idea di Rossano Ercolini insegnante con la fissa dell'ecologia che ha coinvolto prima i bambini della sua scuola poi le famiglie e i comuni in un progetto che ha varcato i confini regionali e poi nazionali e gli è valso un prestigioso premio internazionale il messaggio che noi adesso diamo è quello certo di promuovere ecologia di promuovere la sostenibilità ambientale la salute dei territori la salute umana in primo luogo ma oggi c'è la possibilità che nel passato non c'è stata di connettere ecologia con economia oggi il versante economico l'introduzione di livelli di impresa sostenibile sono un'opportunità per uscire dalla crisi investiamo la difficoltà qual è? sono gli start up cioè gli investimenti iniziali soprattutto per l'occupazione giovanile i giovani non hanno soldi da poter dire io metto 50.000 euro per partire allora le istituzioni dovrebbero selezionare attraverso anche appositi bandi di concorso idee, idee geniali da finanziare anche con piccole somme tutto in natura può diventare qualcos'altro questo è l'insegnamento di rifiuti zero il protocollo firmato da oltre 200 amministrazioni italiane presentato a sindaci e studenti nella sala costituzione della provincia di Campobasso su iniziativa di Galver sul 2000 e associazioni borghi autentici d'Italia un protocollo che anche la regione molise ha intenzione di seguire stanziando, ha ricordato l'assessore Facciolla 25 milioni di euro per consentire a tutti i comuni molisani di avviare o potenziare la raccolta differenziata sul territorio che se fatta bene può abbattere anche le tasse per la comunità come ha spiegato anche Pietro Piva del consorzio Contarina L'importante è che oggi si colga quell'opportunità che l'ecologia ci consente di cogliere oggi dobbiamo fare squadra il messaggio di rifiuti zero è un gioco a somma zero Previsto il pienone all'auditorium di Isernia per l'arrivo del critico d'arte Vittorio Sgarbi che questa sera alle 20 presenterà la sua ultima opera I Tesori d'Italia ma non ci sarà solo Sgarbi a movimentare la serata infatti è previsto anche l'intervento di Franco Valente fiero avversario dell'auditorium una serata dunque da non perdere l'ingresso, lo ricordiamo, è gratuito Parliamo adesso del calendario realizzato anche quest'anno dalla Fondazione Potito di Campobasso il connubio tra arte e scienza il tema legato allo spazio d'arte creato all'interno dell'Istituto di Ricerca e Centro Radiologico sempre più all'avanguardia nella sua attività Sentiamo Tonino Danese Arte e scienza si fondono nell'Art Garage della Fondazione Potito Istituto di Ricerca a Campobasso uno spazio aperto un garage che diventa galleria d'arte luogo dove ospitare incontri culturali e mostre come quella attualmente allestita omaggi a Andy Warhol di cui ci sono le sue foto e a Patrick Mimran quadri moderni dai colori avveniristici strumenti di radiologia ormai superati lastre unite a formare uno scheletro umano riproduzioni di oggetti in 3D con la strumentazione tecnologica di Potito quasi pitture raccolte in un filmato proiettato in una mostra a Torino poi un quadro di Nicola Ciaccia e un murales di Domenico Madonna Abbiamo pensato di uno spazio espositivo nel quale ognuno può avere i suoi 15 minuti di notorietà e questa appunto la passione genera arte la radiologia diventa arte ed è un dando vita così a un inconsueto esperimento di reinterpretazione artistica del concetto di tecnologia e sanità da tutto questo nasce appunto Art Garage perché l'arte non è dove pensiamo normalmente di trovarla può essere ovunque murales in cui è raffigurato il padre della radiologia Röttgen che insieme a Duchamp dà il titolo al calendario realizzato da Potito anche quest'anno lo fa da 11 anni arte e scienza dunque in un connubio illustrato negli 11 mesi del 2014 l'occasione anche per fare il punto sull'attività svolta dal centro radiologico sempre più all'avanguardia per competenze ricerca e strumentazione tecnologica noi in quest'anno siamo riusciti a fare nuovi investimenti puntare su nuove tecnologie come ad esempio nel campo della senologia abbiamo installato proprio di recente un nuovo apparecchio di mammografia digitale con tecnologia di tomosintesi che è un'apparecchiatura davvero rivoluzionaria unica in Molise ma una delle prime in Italia e che consente di implementare notevolmente le capacità diagnostiche della mammografia digitale e soprattutto in soggetti giovani abbiamo installato qualche mese fa un nuovo apparecchio TAC che si chiama TC3D con BIM che è dedicato allo studio del massiccio facciale e delle arcate dentarie l'ITI Marconi di Campobasso domani celebrerà la giornata della scuola aperta nel corso delle attività di orientamento realizzate per i ragazzi e le famiglie saranno presentate le peculiarità didattiche e l'offerta formativa l'istituto sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 bene questa era l'ultima notizia del nostro TG grazie per averci seguito adesso un meteo poi lo sport noi ci vediamo intorno alle 15 con l'edizione Flash arrivederci grazie a tutti